Buongiorno Marse, l'ho già bevuto, mangiato, quanta cacca, uno va a Marco della Valteria per il tartufo e poi gli altri accompagnati, uno in Germania e uno in Svizzera. Arrivo, arrivo, arrivo. Lui dobbiamo tagliare i denti, eh. Caprette volante. E lei dovrebbe essere già incinta. E si sente piccolo. Buongiorno Vicky. Io ho fatto accorto del cattivo. Vai da lei, Lara, sicuro? È bello, vai. Comunque, questi biscotti da carota sono buoni. Ma che mammone bello che hai. E qui, sono 900 kg di cavallo. Sono i miei cagnolini un po' più grandi. Ciao, Fanos. Ciao, ciao. Ciao. Ora prendiamo il papi e puoi cuocere e puoi portare a Cyprus. Pronto? Andiamo. Bravo. Oh, che grosso. Sembra che siano pochi cani e che se sono tanti perché cerco di dare il massimo spazio, perché i miei cani devono essere felici. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Grazie a tutti